Ciao a tutti ragazzi, sono Adore Calionda e in questo video vi parlerò di 5 cose che può fare il vostro iPhone che forse voi non conoscete. Iniziamo con il primo trucchetto iPhone, un trucchetto che vi permetterà di aumentare il volume dello speaker del vostro dispositivo. Per farlo non dovrete fare altro che andare nelle impostazioni del dispositivo, scegliere la voce musica e in ecolizzazione scegliere la voce notte fonda. In questo modo quando ascolterete la musica tramite lo speaker del vostro iPhone, aprite il volume leggermente più alto. Il secondo trucco di iPhone che forse non conoscete riguarda le foto. Sapete che foto ha un motore di ricerca integrato nell'applicazione? Utilizzare è veramente molto semplice e le sue potenzialità sono enormi. Aprendo l'applicazione foto ed entrando nella sezione cerca, ovviamente scrivendo il testo sulla barra di ricerche, non solo potrete ricercare luoghi e persone ma potete ricercare anche oggetti di qualsiasi tipo. Potete scrivere per esempio cane, potete scrivere per esempio fuoco, potete scrivere per esempio computer. Il sistema di riconoscimento degli oggetti intelligente di iOS vi farò vedere tutte le foto che hanno quell'oggetto inquadrato. Un altro trucco di iPhone che forse non conoscete invece riguarda il flash o meglio la torcia. Con il nuovo sistema 3D Touch di iPhone è possibile modificarne all'intensità come con il centro di controllo. Aprendo il centro di controllo ed effettuando un tap più forte sull'icona della lampadina, vedrete che si aprirà un nuovo menu con il quale potrete scegliere l'intensità della torcia in modo tale da non averla troppo forte quando non vi serve. Un altro trucco iPhone che in pochi conoscono riguarda sempre il 3D Touch è l'accesso veloce ad una serie di impostazioni. Lo so in genere lo fate tutti col centro di controllo ma con questo piccolo trucco se avete un dispositivo con 3D Touch potrete farlo anche tramite l'icona delle impostazioni. effettuando un tap più forte proprio sull'icona delle impostazioni si aprirà un nuovo piccolo sottomenu con il quale potrete entrare direttamente nelle impostazioni più importanti per esempio quello del Wi-Fi, per esempio quello del Bluetooth e così via. Il quinto e ultimo trucco iPhone che forse non conoscete riguarda l'ottimizzazione dello spazio. Sapete che è possibile limitare lo spazio dedicato alla musica e farlo è veramente molto semplice e comodo soprattutto in dispositivi dotati di poca memoria interna. Per farlo tutto quello che dovrete fare sarà andare nelle impostazioni di iOS e scegliere la voce musica e nella sezione ottimizza spazio decidere proprio lo spazio che volete dedicare alla musica. È molto comoda questa funzione non solo perché vi permetterà di risparmiare spazio su dispositivi con poco spazio disponibile ma accanto ad ogni quantità di spazio vi farà capire più o meno quante canzoni potrete memorizzare nel vostro dispositivo. Ragazzi questo è tutto per ora, questo è il primo di una serie di video con i quali vi farò vedere i trucchi iPhone che forse non conoscete. Io sono Dario Calendo e ci vediamo al prossimo video di TechFanpage.